Ingredienti Dosi per 4 persone 2 porri 2 scalogni 2 cucchiai di olio 30 grammi di burro 4 carote 1 finocchio 1 cucchiaio di farina 1 litro di brodo Pepe e sale Preparazione Soffriggere i porri e gli scalogni affettati nel burro e nell'olio Unire le carote e il finocchio tagliati a dadini Spolverizzare con la farina Bagnare con il brodo Pepare Regolare di sale e cuocere per 45 minuti Far raffreddare Frullare Riscaldare e servire Il piatto è pronto Buon appetito!